Cani maltrattati, allevati in condizioni precarie, tenuti legati agli alberi, privi di qualsiasi riparo dalle intemperie e consegni di malnutrizione. E quanto è stato scoperto ieri in contrada a Morana dai carabinieri della stazione di Chiaramonte e Gulfi e da quelli del NAS di Ragusa. In particolare, i carabinieri hanno verificato che all'interno del suo appezzamento agricolo, l'uomo, un 68enne del posto con precedenti penali, custodiva una trentina di cani di razza meticcia, di età variabile dai pochi mesi ai 13 anni, in assenza delle basilari condizioni igienico-sanitarie. Inoltre, gli animali erano costretti a trovare protezione dalle intemperie sotto ripari di fortuna. Dieci di essi sono stati trovati legati ad alcuni alberi con catenacci in ferro di cortissime dimensioni, che ne impedivano qualsiasi movimento. Nessun animale, fortunatamente, presentava ferite associabili a sé vizie. Gli accertamenti sono ancora in corso e le indagini sono suscettibili di ulteriori sviluppi. Intervenuto anche il personale del servizio veterinario dell'ASP provinciale e gli animali sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia giudiziale ad una ditta specializzata di Ragusa. Il 68enne è stato deferito e stato di libertà per maltrattamento di animali.